Il caffettino perché mi piacciono gli oggetti e quindi la parola caffè per noi italiani scriviamo canzoni, caffè come la parola tè, è anche una parola semplice per fare un testo quando a volte non sai cosa scrivere ci metti dentro il caffè o tè perché fa riva con tè quindi è molto usata come parola, come ripetivo, quindi vabbè parentesi, chiusa io sono un grande fan delle gente quotidiane che abbiamo attorno, non sono un amante dei massimi sistemi non mi interessa, non è neanche del mio lavoro, quindi ho preferito dedicare una cazzone all'oggetto della caffettina Ma il caffè ti evoca di genere di sensazioni, ricordi stridici, positivi e respetti? Sì, c'è un benitore di caffè, non è normale, mattina, pranzo, anche dopo cena non ho grandi problemi a avere il caffè lo stesso, quindi sì, un rapporto normale con il caffè, lo uso, lo prendo quotidianamente Grazie